della palla 2 che arriva in questo momento a primo possesso nelle mani dei Leopardi quello è l'imbalzo controllato da Alconito spingere la notizia rona da Yevaita il 12 e il 77 appoggio per la valla di Santabellone il tiro di Lorenzo Alconito che porta a fare il battaglio per la prima volta in questa paletta spalla canestro contro l'allenacca non c'è il mismatch palla dell'angolo appoggio per la valla di Alconito da 3 punti a bersaglio Lorenzo Alconito buon inizio della numero 12 hanno preso dei tiri pieni per terra e mi sembra che ho più voluto il sito delle numero 4 si muove Ciaspegna vicino al canestro Mago con la sua fisicità lo sposta Ciaspegna canestro con la mano sinistra delle numero 77 vale nell'angolo Pere Alconito ancora da 3 punti ancora a bersaglio time out prontissimo di Quasimonti per la difesa angolo per Stiffi grazie all'attacco delle Mago che ha poco più spogliere il cuore giallo l'attacco è piccola per la grande del bambolo da all'emmio ma Luca Mosca appoggio con la mano destra Stavola Mosca ma adesso la musica importante dentro scassi il rapporto inusuale per l'idea il capitano ospite da primo transizione del bambolo ancora da Luca Mosca palleggia nel sentito che si deve si rendere ad un salto a spalla Luca stessa sulla palla Stiffi sull'alini 7 secondi Pere Costegno un tiro per Arona uscita dai blocchi Pere Alconito sta con lui all'emarco cattivo difficile del numero 12 Calestrone di Lorenzo Alconito Ciaspegna un po' sbasso quanto deve essere la gioca il 77 serie di quinta appoggio con la mano destra il tabellone grande giocata di Michele Ciaspegna Stella si è dimenticato il taglio a Flori ma quasi sono molto buon lavoro di squadra anche un po' sporto rimardi nell'angolo da 3 punti allo scadere dei 24 Valtibonis da 3 il blocco di Ciaspegna su da fronte di Stenba ancora il numero 4 in situazione alza la mano da la mano a sinistra meccanismo di Luca Calzerano sempre difesa a zona aveva una periva dall'angolo di Valtibonis ancora da 3 Valtibegna e Calzerano ancora non sono mai usciti dal campo quindi probabilmente questa cosa fa a Versaglio a De Maldi la cannesca tecola con i punti una dedica alla tribuna attacca la scuola della difesa però riesce a tenere la scuola in campo contro il seconde che è successo quando sta di campare la vita mago già per il solito dalla media domanda a Versaglio canestra del Mago cedello numero 9 sbagliato di un pazzo dietro mai attacco riesce a scaricare per Maldi che appoggia con la mano per il canzone d'oro ancora Maldi che si impaga il bronco vicino a canestra sicuramente vorranno essere molto aggressivi e cambiare forte Mosca al centro della resta scarica per me a Corrado piglia posti numero 11 Francesco Corrado da 3 questo è il tiro fronte di Luca che si apre con la pique pop dentro il Mago e se la deve giocare Giampo ancora l'ex giocatore di Samigliano ancora avversario il Mago ma per Ademarco una persona in azione l'orone il giro l'orone viene viene per scarica all'unio bene Luca Mosca palla di Atem viene il contatto il 42 palla recuperata dal capitano con il piede Luca guarda la capazza appoggio e vado sinistra il tabellone ancora Luca Mosca vai out il 3.30 Calzerano mi riesce a portare Luca balanzata bene l'appoggio con la mano a destra e vieni sui occhinello il segno dei punti importanti che deve accendere il morale dei Vikings altissima del numero 11 Vizca il memoria in attacco c'è un spegne assurdo il blocco è ancora per la corretta viva lato debole di Luca Mosca segna con il pallo canestrone di Rovezza Fonico che tiene molto bene il contatto altissimo da nazionale per favore le varie di la palla dalle mani Alex la difenza ora in Vizca dipende ancora Stipino Lucca che palla e vi pago che appoggia per l'anno Alcomando due punti che pesano moltissimo la rica numero 9 inizia molto bene il secondo tempo Vervea tripla Ale a Gbogano le mani di Gazzano c'è l'anticipo di Malvin incontro il piede appoggio con la mano sinistra alto a Bellone appoggio con la mano sinistra appoggio con la mano sinistra becca resta di Malvin e Ferreira D'Amico come 41 di Vivalda all'anno ancora persa la tangua di Tripla del numero 9 Ale Alcogano va lontano fischia la palla persa di Pettiglio ma non è qui non riesce a anche coltato per l'anno di Zaviglia per il Zaviglia poi gioca la mano sinistra con il Torn regalare un ex a possesso e un suoi forse ha fatto quale sapete ma la vita non fischia tripla Alex per Viglio per Vivalda per Cospedricca un po' azzardata per l'Aida 23 con per piede in via con Giannoli che segna Canestro molto difficile in pesca il Giollin numero 14 il Giollin con separazione bellissimo Canestro la differenza monico che vuole il Grado ma la impunta per la trame quando Giollin si vede il sale del Mago appoggio con la mano destra ancora il Mago punti del numero 13 importantissimo Canestro il Giollin 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 ancora il Giollin fondamentale il Giollin è difficile di riuscire a controllarla il 77 c'è il Giollin il Giollin falleggio adesso il tiro dalle la lunetta importante Andrea Sperra il Giollin 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 punta da 3 questa volta a Bersaglio la ridola di Miguel Giorspegna il Giollin il Mago vicino a Benessa con Zanoni il tiro difficile appoggiandosi il Giollin il Giollin il Giollin il Giollin ancora il capitano ancora la 3 il Giollin il Giollin controlla il piede poi scarica per il progetto da Ricco gli scivola la palla trovato Luca Mosca per il Mago di una poca a 2 al tabellone primo di linea del traguardo il Giollin è importante risponde subito vende tutti al bacere ha trovato con i torni di Sviglia una attenzione grande fa la parola di Zanoni in azione di Angola perché si vince il palco il Giollin per lo supercettare il Giollin il Giollin è da solo il quartiere di 6 a 7 il Giollin il Giollin si può vincere ecco il numero 5 il Giollin il Giollin il Giollin numero 4 avversario importante il Giollin il Giollin il Giollin il Giollin il Giollin può chiudere definitivamente i Giollin il Giollin il Giollin il Giollin il Giollin inizia così Bea Pagliarona 8-1 35 si fa a giocare adesso in una bellissima serie 7-1 suonere